Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa, al flusso da nord e cielo sereno fino a domattina sulla Liguria, poi rotazione dai quadranti meridionali, aumento delle nubi e venerdì possibili rovesci temporali da metà giornata sul centro Levante. Il dettaglio oggi mercoledì 5 aprile, sereno su tutta la regione, con possibile nuvolosità alta in tarda serata, venti deboli meridionali in giornata, fino a moderati da nord la sera, mare poco mosso, temperature massime e stazionario in lieve aumento lungo la costa tra 14 e 17 gradi nelle zone interne tra 12 e 13 gradi, domani giovedì 6 aprile sereno, poco nuvoloso la mattina, dal pomeriggio aumento delle nubi con condizioni di variabilità, venti deboli da nord in rotazione del pomeriggio, mare poco mosso, temperature minime e massime e stazionario in lieve calo, minime lungo la costa tra 5 e 8 gradi nelle zone interne, intorno a meno 2 e meno 1 grado, massime lungo la costa tra 14 e 16 gradi nelle zone interne tra 12 e 17 gradi. Dopodomani, venerdì 7 aprile, sulla regione cielo nuvoloso, con possibili rovesci e temporali da metà giornata sul centro levante, venti deboli o moderati da sud sud-est e settentrionali in serata, mare poco mosso la mattina, mosso dal pomeriggio, temperature minime e massime stazionario in lieve calo, minime lungo la costa tra 5 e 9 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 2 gradi, massime lungo la costa tra 14 e 17 gradi nelle zone interne tra 10 e 14 gradi. E' tutto, seguite la giornata su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!